buongiorno questa mattina inizia con pancakes questa è un pochino di dispensa che mi sono fatta qui su in sette anni e ho della farina di cocco della farina di quinoa dei semi di chia l'albume e il latte di soia non pensavo ma sono riuscita a fare grazie a questi ingredienti dei pancake buonissimi e adesso vi faccio vedere la ricetta qui c'è una bilancia ma vado un po' occhio perché non è assolutamente precisa quindi un cucchiaio di farina di cocco due cucchiai di torino di quinoa poi aggiungo i semi di chia albume e il latte di soia impasto pronto accendo la padella ecco la padella bella calda prendo un cucchiaio di impasto allora il primo viene sempre perfetto perché la padella è calda ma non troppo quindi il segreto per riuscire a continuare a farli così senza bruciarli perché man mano che la padella si scalda si bruciano è tirarli su appena finiscono di fare le bolle sopra vedete mi va un po' off focus ma sto facendo il po' sfocato scusate ma devo girarlo se non mi si brucia quindi tutte le bolle sopra prendo giro e lo alzo problemi tecnici quindi lo alzo e lo cuocio fuori dal fuoco voilà perfetto ok metto l'impasto che non fa tutte le bollicine anche sopra lo stacco e giro e qua è perfetto e lo lascio cuoccere così vogliamo vedere su quest'ultimo ha vinto la fame e l'impazienza cioè guardate che panchetti mi sono tutti quelli che ho fatto non presi dalla fame cioè sono tonidissimi e guardate quello l'iniziale ora è palidino ma questi perfetti ora allora vediamo se riesco a fare una torretta se no raga solito ma questa è una torretta immensa non ce la posso fare una torretta aspetta è infiato un po' umido ok quindi beh possiamo fare due torrette no tanto qui sappiamo che si mangia per due tipo anche un po' così vabbè magari senza cappuccio ok vabbè queste sono carine vedete tutto questo è di angolazione quindi due torrette ci metto sopra le fragole si sopra non vabbè luna chiede pollo quindi cascatola di cascatola una cascata di fragole cascata di salsina al cacao che sapete benissimo come faccio cioè cacao amaro e acqua mescolato a manetta e per finire in bellezza burro di mandorle e ora che belle che sono allora no grazie no 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 Grazie a tutti.